Veloce, 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 vai, veloce, vai, veloce, vai, veloce, vai. Non ti vede, tu non vedi lei e lei non vede te. In aiuto. Non siamo riusciti a farlo perché, giustamente, che stavi facendo papà, ti stavi a controllare, intorno a settimana guardava qualcuno? Sì, quindi ancora non lo faceva, all'improvviso ha fatto il suo scatto e che hai fatto papà, che sei riuscito a prendere? Come si chiamano queste? E chi la prese? L'hai pagata? L'hai pagata? Sì o no, la verità? Gli hai dati i soldini e te le sono fessi in base? La verità, che hai fatto? Le hai pagate? Dì la verità, dai. Gli hai dati i soldini? Non fa niente, non ti dice niente, hai pagato. Gli hai dati i soldini? Gli hai dati o no? E tu non le hai pagate, le hai presi e ci ne siamo andati. No, le abbiamo pagate, giro. Non le abbiamo pagato i soldini. Chi le ha prese e si è fatta a dire? Io. Bravo, dai. Fatta bene. Prima furto a due anni, bravo. Grazie. Grazie. Grazie.